Matteo Mattioli, commissario della Croce Rossa locale di Pescara, parte quest'estate un importante progetto che vi vedrà con i vostri volontari lungo la spiaggia dal confine nord con Montesivano fino al ponte del mare. Sì, quest'anno Croce Rossa italiana, comitato locale di Pescara, riparte con un progetto molto importante sulla costa di Pescara. Avremo dei volontari a bordo di biciclette, sia elettriche che bici normali, con del materiale sanitario e defibrillatore. Tutto per garantire l'assistenza dei cittadini che vanno in spiaggia nel weekend, ma soprattutto anche per i turisti che d'estate affollano la città di Pescara e le spiagge pescaresi. Il vostro intervento avverrà sia a terra che anche sulla spiaggia? Principalmente noi pattuglieremo tutta la costa e nel caso ci fosse bisogno verremo contattati o a vista dai balneatori che sono lì oppure eventualmente tramite il 118. Ci sarà una collaborazione anche con la Capitaneria di Porto? La Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera ci ha inserito nel progetto che loro svolgono ogni anno. Siamo lieti di collaborare con questo ente che svolge un ottimo servizio per la popolazione, soprattutto in mare. Grazie. Grazie.